Seguirci in streaming e può seguire questa diretta appunto in video abbiamo dicevo il sindaco Francesco Fjordomo e lo scrittore Moreno Gentili che poi è il direttore responsabile di questa prima edizione di Manifestare Poesia intanto saluto entrambi e iniziare con Gentili che so che buongiorno c'è anche da altre interviste in altre radio d'Italia sempre per questo modio? Sì 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 Francesco mi sta facendo fare un giro bellissimo per il tessuto radiofonico e connettivo marchigiano ed è stupendo perché è qua veramente che c'è l'anima culturale del territorio per cui mi fa molto piacere. Grazie intanto a voi. No grazie a voi che siete venuti qui a Radio R per presentare quello che poi accadrà in questi tre giorni domani, dopodomani e domenica. Domani è il giorno clou diciamo così perché è il 29 giugno, festa di Giacomo Leopardi e con Gentili cercheremo di capire in che cosa consiste questa manifestare poesia c'è un passo che mi ha colpito nella presentazione in cui si dice che le poesie vengono lette ma gli editori fanno sempre più fatica a pubblicarle cioè i libri di possia. Questa è una cosa di cui si lamentava anche tempo fa lo stesso Pier Santi dice. Oltre a essere un po' di non lettori, quello italiano, le poesie vengono stampate con molta fatica gli editori, non ne rendono più nel mercato? È una questione molto interessante perché in realtà è vero che l'Italia è il paese con il minore indice di lettori in Europa e questo purtroppo è un dato assodato da molto tempo. Io scrissi già nel 93 per l'illustrazione italiana un articolo che raccontava proprio queste statistiche e non sono cambiati di molto nonostante l'avvento di internet per cui si legge poco in Italia però si scrive molto. Questo è molto interessante si scrive e soprattutto si scrivono poesie gli editori però non riescono a vendere il libro di poesia cioè intendo il manufatto di poesia classico a meno che non parliamo di quei tre o quattro autori che sono molto conosciuti e che hanno un'attività festivaliera molto attiva e in questo modo le vendite aumentano cioè la relazione che c'è fra autore e editore è a vantaggio dell'autore se lavora ma non appoggiato dall'editore l'editore non investe più in poesia tranne anche in questo caso per quei due o tre grossi editori come Einaudi, Mondadori e allora in questo caso sulla poesia si investe ma si vende sempre troppo poco c'è un mistero nascosto in tutto questo e abbiamo iniziato a dibatterne come operatori e come scrittori per cercare di trovare prima le ragioni e poi magari i rimedi comunque ragione lei è un dato assodato la poesia negli editori non viene pubblicata o quando viene pubblicata viene pubblicata in piccole tirature e tra virgolette malvolentieri quindi prendere diciamo l'iniziativa di fare manifestare poesia è anche un'iniziativa coraggiosa? lo è perché intanto l'amministrazione si è posta come obiettivo quello di spingere in avanti il tema leopardiano che è un tema straordinario e classico e di spostarlo verso la poesia contemporanea questo è un primo gesto istituzionale molto coraggioso e questo fa piacere mi piacerebbe che lo facessero anche gli editori nello stesso modo che vorrebbe dire tornando al discorso di prima decidiamo di editare 50 nuovi poeti italiani e di lanciarli a tutta sul territorio sarebbe un gesto analogo quindi un primo passo verso un progetto di poesia è questo la volontà istituzionale la seconda è quella creativa e culturale che sarebbe la nostra, la mia e con altri collaboratori e quindi quello di provare a inserire in un luogo straordinario per la poesia è simbolico se c'è una città in Italia che può con tutti i diritti culturali, storici, economici, istituzionali che può come dire, si può dire rappresentare la poesia queste recanati e quindi le due cose si sono unite siamo in una città straordinaria per la poesia con autori poeti straordinari e da qui in poi è sperimentazione vediamo cosa succede spero che i cittadini recanatesi che ci stanno ascoltando vengano ad ascoltare la parola dei poeti perché oggi come oggi la parola dei poeti è come quella dei filosofi di un tempo il poeta alto è sensibile, ha a che fare con la propria coscienza e con la coscienza collettiva Durs Grumbain, questo poeta tedesco in odore di Nobel che aprirà le 21 in piazza Leopardi, il festival è un poeta che ha a che fare con le nostre problematiche contemporanee ha a che fare con la società civile in senso assoluto la sua non è una poesia di sofferenza, vittimismo e estetizzante la sua è una poesia politica, civile, sociale, umana e questo può essere una scoperta anche per chi magari finora non ha colto l'afflato poetico contemporaneo ed è un giusto ponte fra Leopardi e la nostra realtà di oggi anche perché questo poeta tedesco teorizza la nascita della poesia proprio dalla scienza o comunque c'è questo grosso legame fra poesia e scienza come lo c'era con Leopardi quindi c'è anche un'affinità diciamo così fra i due poeti uno che viene commemorato diciamo così e l'altro che sarà presente fisicamente aprirà lui il domani sera? apre domani sera alle 21, ovviamente 21, 21 e 15 in piazza Leopardi però alle 21 è l'ora in cui prendere i posti poi ci sarà il Resider e poi anche i fuochi d'artificio poi ci sarà Gabriele Lavia che darà il giusto tributo a Leopardi e poi questi fuochi artificiali che ricordo l'anno scorso bellissimi e quindi... ah c'era anche l'anno scorso? sì 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 c'era c'era sì è stato molto bello è stato difficile mettere insieme questi poeti contemporanei perché i nomi sono tanti se ci vuol dire se li ricordo a tutti a memoria diciamo così beh visto che... è un lavoro lungo di relazioni abbiamo, lo confesso, rubacchiato anche poeti che avevano già altri festival a cui andare nelle stesse date di letteratura li abbiamo presi, portati qui è un lavoro di relazione molto molto importante perché mettere insieme una squadra di poeti è un po' come mettere insieme perdonatemi il riferimento è come mettere insieme una squadra di sportiva di grande livello cioè bisogna andare a trovarli operare criticamente fare una selezione, scegliere non sempre si può avere il meglio ma si deve avere il meglio quindi è stato tutto un lavoro molto complesso quello di mettere insieme questi autori soprattutto i due internazionali che erano ambiti già in altri luoghi europei gli autori sono straordinari abbiamo Dus Grumbain di cui ho parlato Antonis Fostieri, greco Mariangela Gualtieri, poetessa straordinaria Patrizia Cavalli, la più grande poeta italiana del momento il più grande poeta italiano del momento e poi una serie di autori che lavorano con grandissime capacità di sperimentazione linguistica Maria Grazia Calandrone, Irene Santori, Gian Mario Villalta abbiamo anche dei poeti, ovviamente due poeti marchigiani che sono Piersanti e Rossella Frollà che fanno ricerca e lavorano molto bene nel campo della poesia pubblicata quindi ci sono come dire chicche all'interno del festival come la presentazione del libro The Westland una nuova traduzione di Elliot due serate sul colle dell'infinito dove non più la lettura classica di poesia la discussione ma la performance le due poetesse, Maria Grazia Calandrone e Irene Santori faranno una vera e propria performance vocale e musicale quindi la poesia si spinge verso quegli estremi quei confini in cui parole e suoni si fondono una nell'altro per cui chi partecipa a questa esperienza partecipa a un'esperienza unica anche come pubblico per cui la poesia in questo caso appunto secondo me sono molto contento di aver trovato una risposta istituzionale così aperta è proprio sperimentale nel vero senso del verso chi viene come spettatore ad ascoltare questi autori ha una garanzia ascolta le punte estreme della nostra ricerca linguistica italiana perché tutti hanno pubblicato tutti sono autori molto conosciuti nell'ambito letterario e anche internazionale ecco ci saranno queste performance che si terranno a mezzanotte a mezzanotte sul Colle dell'Infinito un orario a cui non sono abituati molti i re canadesi ma i giovani si i giovani sono abituati per altri motivi magari non per andare ad ascoltare una poesia sul Colle dell'Infinito è un azzardo però è una scommessa che va fatta è un azzardo però ricordiamoci che il Colle dell'Infinito nell'immaginario collettivo mondiale per chi conosce la letteratura e quindi molti è un simbolo è un luogo simbolico il Colle dell'Infinito è come la Saint-Victoire per Cézanne sono luoghi magici di cultura quindi mezzanotte è stato proprio come dire anche una proposta del manifestare la poesia e quindi bisogna fare un po' di fatica per manifestare non è che come dire ascoltare poesia si entra in una sala c'è il poeta che legge oppure come capita non so di solito nei gruppi di amici se uno scrive poesie se uno fa fotografie la domanda classica è dici una poesia facci una fotografia no questo è un festival serissimo dove si impara si gode si ascolta e soprattutto si partecipa e quindi perché no i coraggiosi re canatesi che hanno voglia di fare qualcosa di strano si fanno il solennino pomeridiano come lo farò io e a mezzanotte ci si trova lì davanti al centro studi leopardiani altro collettore che ha partecipato a questo festival e si ascolta poesia e si ascoltano due autrici che secondo me da come io le ho già ascoltate altrove e non a mezzanotte magari fanno venire la pelle d'oca diciamo che quest'anno non abbiamo soltanto il classico appuntamento della poesia recitata da un attore poesia leopardiana l'appuntamento che sino all'anno scorso avveniva al colle dell'infinito nella piazzola del sabato del villaggio quest'anno invece per la prima volta in piazza Giacomo Leopardi ma abbiamo più poeti che magari appunto presentano le loro opere e non so se reciteranno anche Leopardi non penso io ho detto a tutti che si devono sentire liberi se vogliono fare un omaggio al maestro perché no infatti questa mattina un'autrice mi ha chiamato e mi ha detto oddio mi è venuto il dubbio ma devo leggere Leopardi io ho detto non devi ma se vuoi fare un omaggio è perfetto fallo con la tua lingua con il tuo ritmo assolutamente abbiamo dato libertà credo che lo spirito di un festival di questo tipo sia lasciare gli autori liberi di decidere che cosa leggere perché altrimenti non informeremmo il pubblico lo condurremmo per mano in un sentiero già molto conosciuto in questo caso qualche autore ci farà qualche sorpresa con Leopardi a partire poi ovviamente da Lavia che reciterà il suo come dire il suo spettacolo che si dice Leopardi e per cui lo leggerà a suo modo e già quello sarà una bella come dire un bel viaggio dentro la cultura leopardiana invece è una cosa un po' particolare quella che avverrà nel domenica pomeriggio alla Olamagna con alcuni poeti che si confronteranno sì quello è un confronto un confronto sulla poesia moderna ma anche in questo caso i poeti leggeranno le loro opere perché scalpitano il poeta vero è come un cavallo di razza voglia di leggere le sue cose un festival è proprio il contenitore giusto per dargli modo di esprimersi di dire la sua per cui credo che il dibattito sarà breve e la lettura sarà forte per cui insomma modereremo nel modo migliore possibile cinque sono tanti ma sono tutti autori molto 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 belli insomma per cui vedremo che cosa ne viene fuori senta Gentili mi deve spiegare una cosa un passo che leggendo il comunicato io ho capito ma sì a un certo punto lei è il fondatore del progetto letteralmente dedicato alla cultura civile una scelta etica di denuncia sociale e politica che non preclude in nessun modo la qualità della scrittura ma muove all'azione certo letteralmente festival certo letteralmente festival sotto titolo scrivere e parlare di cultura civile è nato quattro anni fa il piccolo teatro di Milano non a caso il piccolo teatro di Milano è stata la sede della Gestapo durante l'occupazione nazista da 43 e 45 dove sono ahimè stati uccisi molti molti partigiani ma anche molti prigionieri semplici hanno stati prelevati come dire gli operai delle diverse fabbriche portati poi ad essere fucilati in piazzale Loreto quando parlo di cultura civile la spiego in due modi che cos'è la cultura civile non è la resistenza politica l'urlo l'odio per l'avversario ma è la consapevolezza di quello che è il nostro presente sempre e della nostra memoria se la devo spiegare ai ragazzi la cultura civile è questa quando la spiego nelle scuole dico voi avete l'acqua calda l'avete tutti i giorni ecco state bene in inverno vi sentite coccolate dall'acqua calda ecco provate a immaginare se ve la togliessero che cosa accadrebbe tutto quel beneficio se ne andrebbe a ramengo la cultura civile è lo stesso quello che noi non ci rendiamo più conto di che valore ha parliamo scriviamo leggiamo ma se ci privassero di questa libertà capiremmo esattamente il valore che la cultura civile è ha e possiediamo come valore è tutto qui insomma e poi lo spiego nello stesso modo anche agli adulti perché tanto voglio dire adulti e ragazzi spesso si trovano nelle incognite benissimo noi potremmo dire che abbiamo completato la presentazione di questa iniziativa una curiosità visto che questa iniziativa leggo è stata voluta dall'amministrazione comunale ad iniziare dalla realizzazione del film Il Giovane Favoloso di Martone che un po' ha iniziato questa serie di festeggiamenti un po' più corposi nel nome di Giacomo Leopardi non solo quelli canonici che ci portavamo dietro da tanti anni dai tempi di Giusuè Carducci da quando per la prima volta c'è stata questa commemorazione ufficiale del poeta all'Aula Magna e lei l'ha visto Il Giovane Favoloso? Sì sì l'ho visto mi dica sinceramente l'è piaciuto? Moltissimo è un film che farai continuamente vedere nelle scuole perché è un film soprattutto che deve arrivare ai giovani è arrivato sul grande pubblico e questo ha fatto bene ed è stata secondo me una scelta bellissima sul piano dell'immagine allora non dimentichiamo che torno all'esempio di Cézanne non a caso mi perdoni se voi andate a Aysanne Provence tutto il territorio e per territorio intendo tutto alberghi bar scuole scuole di pittura ristoranti e questo festival e questo festival e questa presentazione che abbiamo fatto l'anno scorso con tre grandi poeti benvengano si deve continuare su questo passo non bisogna averne paura non bisogna come dire lanciare il sasso e nascondere la mano perché essere consapevoli della propria cultura anche di territorio è rappresentare poi tutti quelli che vivono in quel territorio e questo è stato una grande operazione politica e secondo me civile benissimo ringraziamo Moreno Gentili adesso è un piccolo stacchetto pubblicitario poi parleremo sempre anche del Junior Lopardiano con il sindaco Francesco Fiordomo ma con lui parleremo anche di altro fra poco eccoci qua di nuovo in diretta abbiamo sospeso questa lunga carellata di spot pubblicitari andiamo invece anzi proseguiamo proseguiamo con lo stesso discorso perché che avevamo interrotto prima con lo scrittore Moreno Gentili che ci ha presentato questa iniziativa manifestare boesia Gentili è qui ancora con noi ma intanto cediamo la parola anche al sindaco Francesco Fiordomo allora saranno tre giorni questi intensissimi Francesco perché appunto si inizia domani con il celebrare Giacomo Lopardi poi abbiamo dimenticato prima di accennare con Gentili che domenica mattina ci sarà il premio o sabato mattina sabato mattina diventerò poeta mentre domenica ci sarà Francesco il primo matrimonio primo matrimonio una coppia che attendeva da tempo la data della riapertura della riapertura del comune va bene anche questo è simbolico significa che il comune riprende vita intanto saluto tutti come dicevi saranno tre giornate intense Moreno ha tratteggiato il programma di manifestare poesia che è veramente il momento nel quale alziamo l'asticella noi abbiamo sperimentato l'anno scorso per la prima volta la presenza di poeti contemporanei nelle giornate di festa per Giacomo Leopardi adesso abbiamo fatto il salto di qualità che è nella programmazione che è nella sperimentazione nel recitare sul colle dell'infinito a mezzanotte nel portare la poesia in piazza Giacomo Leopardi è sicuramente un atto coraggioso forse è un azzardo era un atto coraggioso è un azzardo qualche anno fa quando partivano i notturni di musica e poesia di Lunaria quando il vescovo di Macerada nel bel mezzo di un concerto leggeva passi di Sant'Agostino in una piazza con migliaia di persone penso che anche questo coraggio e questa sperimentazione abbia un forte valore educativo perché serve la contaminazione serve la condivisione serve proporre l'arte e in qualche modo far crescere una comunità e la comunità recanatese che è la città di Giacomo Leopardi deve continuare a crescere da questo punto di vista poi ci sono i giovani i giovani che hanno partecipato al concorso di poesia che abbiamo portato avanti grazie alla collaborazione della fondazione Bracco poi Moreno che ha avuto il ruolo di sovrintendere all'organizzazione ci potrà raccontare l'esito quello che è avvenuto ma pensare che 1300 quasi 1300 studenti delle scuole superiori italiane partecipano ad un concorso di poesia è un qualcosa che potrebbe anche stupirci promosso in appena due mesi poi Moreno ci dirà anche l'esito che è ulteriormente sorprendente ed entusiasmante perché poi vincono poeti marchigiani evidentemente qui c'è una magia c'è un humus c'è un qualcosa di speciale che chi arriva a Recanati chi arriva nelle Marche coglie e Moreno che è milanese doc tifoso interista un po' depresso come siamo depressi noi tifosi milanisti però coglie questa magia questa atmosfera particolare che si respira nel nostro territorio oggi no perché anche la Germania è andata a casa quindi vedremo in che condizioni arriverà il poeta tedesco domani sera non dovremo fare riferimenti calcistici perché anche la Germania ha avuto la sua Corea quindi dicevo l'importanza di 1300 studenti che partecipano a un concorso di poesia e penso a Stereo anche a raccontare scrivendo il concorso di scrittura che ormai da qualche anno coinvolge migliaia di ragazzi delle scuole primarie e secondarie questo sta a significare che probabilmente non tutto è perduto che probabilmente lo stereotipo dei giovani scansa fatiche dei giovani che non hanno voglia dei giovani che pensano solo alla discoteca del sabato sera che vivono di notte sicuramente è vero c'è un problema educativo c'è una difficoltà nella quale ci stiamo dimenando ma c'è anche un mondo giovanile attento alla cultura che studia che si prepara che ha ispirazione poetica che non scrive soltanto sul tablet o sul telefonino ma prenda ancora la carta e la penna ci sono giovani impegnati nel volontariato ci sono giovani impegnati nell'associazionismo sportivo quindi anche questo concorso di manifestare poesia è un qualcosa di importante perché poi la cultura diventa educazione diventa impegno e va calata tra i giovani usando il linguaggio dei giovani chiudo questa lunga parentesi per tornare al programma noi ci ritroveremo domani pomeriggio alle 17.30 in piazza Giacomo Leopardi come avvenne il 29 giugno del 1898 a distanza di 120 anni abbiamo invitato i comuni che all'epoca aiutarono il comune di Recanati nel costruire questo palazzo maestoso doveva essere grandissimo perché grandissimo è Giacomo Leopardi e perché questo palazzo doveva essere il momento centrale la costruzione di questo palazzo dei festeggiamenti nel primo centenario della nascita di Giacomo Leopardi e fu come veniva ricordato Giosuè Carducci ad inaugurarlo con la prolusione ufficiale abbiamo fatto un grande lavoro d'archivio che verrà presentato all'interno del palazzo comunale ci sono alcuni documenti straordinari che raccontano la storia di Recanati raccontano la storia dei comuni marchigiani e la storia d'Italia l'altro giorno il sindaco di Serra Petrona mi diceva di aver ritrovato un documento nel suo archivio del 1898 con il quale il comune di Serra Petrona deliberava un piccolo contributo per la costruzione del palazzo comunale Recanati per onorare il grande Giacomo Leopardi quindi abbiamo invitato i comuni li ospiteremo abbiamo l'adesione di più di 60 delegazioni di comuni marchigiani e non che saranno con noi alcuni con il gonfalone saranno salutati dal nostro concerto musicale Beniamino Gigli diretto dal maestro Crucianelli e ci sarà il raduno in piazza Giacomo Leopardi insieme a tutte le autorità civili militari ai poeti al mondo accademico agli studiosi quindi li accoglieremo in piazza Giacomo Leopardi ci sarà il momento del saluto e poi inaugureremo il ristrutturato palazzo comunale arrivando all'Aulamagna dove ci sarà la parte della produzione e il premio poi sapete il programma dalle 21 con il poeta tedesco Crocetti che voglio ringraziare per la sua attenzione e la sua sensibilità il Resital di Lavia alle 22 e alle 23 la conclusione con lo spettacolo pirotecnico musicale quindi è un momento importante è un momento che sicuramente ci emoziona perché quando abbiamo dovuto chiudere in fretta e furia il palazzo comunale dopo la scossa terribile di quella domenica mattina del 30 ottobre tutti in cuor nostro abbiamo temuto di tornare all'interno di questa struttura chissà quando fortunatamente avevamo già operato i primi interventi dopo la scossa di fine agosto con il pronto intervento finanziato dalla protezione civile poi dopo il 30 ottobre ci siamo detti bisogna gettare il cuore oltre l'ostacolo bisogna arrocciolarsi le maniche bisogna avere coraggio e proviamo a fare da soli proviamo a fare da soli perché come abbiamo poi visto le procedure tecniche nazionali la burocrazia è una burocrazia che spesso rallenta non agevola non affianca chi invece vorrebbe andare avanti in modo spedito e concreto abbiamo riscosso la polizza assicurativa che i nostri uffici con grande intelligenza e grande sapienza avevano stipulato per il rischio di calamità naturale abbiamo riscossi 3 milioni di euro il consiglio comunale ha approvato il progetto della giunta gara d'appalto lavori è stata una corsa contro il tempo ma dovevamo riaprire il 29 giugno perché c'è questo valore simbolico straordinario le prime attività si svolgeranno già nei mesi di luglio ed agosto i consigli comunali i matrimoni altri momenti ufficiali poi da settembre avverrà il trasloco penso che anche questo sia un bel segnale un segnale di rinascita il segnale di una comunità che non si arrende alle difficoltà la burocrazia ai contrattempi e che in meno di due anni perché siamo ad un anno e mezzo da da quell'evento è riuscito nell'impresa comunque di riaprire il palazzo comunale e sarà bello festeggiare con i comuni amici che verranno qui nella nostra città ecco saranno saranno dicevi 60 sono 60 le delegazioni dei comuni che hanno confermato la loro presenza come avete fatto dal punto di vista organizzativo anche a ricevere una così nutrita rappresentanza dei comuni italiani rimarranno nei tre giorni successivi allora sono moltissimi comuni marchigiani altri comuni che arrivano penso a Bologna penso a Ravenna penso a Davio addirittura penso a Davio che arriva dal nord Italia lì dovremmo indagare anche il legame questa mattina mi è arrivato il saluto del sindaco di Napoli De Magistris doveva venire l'assessore ma anche loro hanno manifestazioni e celebrazioni ma con Napoli abbiamo avviato un rapporto di collaborazione grazie anche alla biblioteca di Napoli che da sempre è in collegamento con Casa Leopardi e andremo a stringere un rapporto di collaborazione la stessa cosa avviene con Bologna ci sarà appunto la presenza del comune di Bologna così come con la Toscana con Firenze quindi in qualche modo i comuni leopardiani sono tornati nuovamente a ragionare insieme già la comunità scientifica lo faceva e adesso anche noi come istituzioni proviamo a stringere ancora di più il rapporto di collaborazione i comuni marchigiani saranno poi rappresentati dal sindaco del capoluogo Valeria Mancinelli che appunto condividerà con noi questo momento facciamo dire proprio due parole gentili perché prima avevamo accennato a questa iniziativa di diventerò poeta diceva è stata un'iniziativa molto bella perché ha coinvolto 1500 studenti quasi 1300 e l'abbiamo organizzato in 60 giorni ne stiamo preparando la seconda edizione questa volta la lanciamo già da settembre il che la cosa ci fa un po' paura perché probabilmente arriveranno qualche decina di migliaia di risposte se dobbiamo valutare la relazione fra tempo e poesie scritte mandate la cosa bella è che mi ha colpito è che sono arrivate anche delle buste dei licei con dentro i componimenti degli autori e questo è stato bellissimo la giuria è stato il vero lavoro di qualità del premio perché vogliamo che il premio sia di altissimo livello compositivo i temi i sogni e le aspettative e quindi anche questo per un giovane è fondamentale la giuria era composta da otto persone provenienti da diverse parti d'Italia senza nessuna relazione fra loro tranne appunto il presidente della giuria che era l'assessore alle culture di Recanati ma che non aveva diritto di voto né di giudizio e le poesie sono state divise ovviamente da nome dati qualunque riferimento potesse condurre un autore per cui il concorso è avvenuto ad un livello di controllo altissimo e nel momento in cui sono stati selezionati i primi 100 autori sono state come dire depositate i dati sono andati da una parte e le poesie da un'altra la giuria le ha prese le ha valutate e lette in silenzio altra prerogativa della giuria era che la discussione fosse demandata solo negli ultimi dieci scelti arrivati ai dieci senza ovviamente nessun tipo ancora di riferimento nominale e autoriale titoli qualunque riferimento cancellato coperto insomma per cui la poesia nuda e cruda la discussione si è avviata e alla fine sono stati decretati due vincitori e solo a questo punto io che ero il garante con ovviamente la persona corrispettiva della fondazione Bracco siamo andati a prendere in tutt'altra stanza i dati corrispondenti alle poesie e con grande con grande come dire felicità abbiamo scoperto che la poesia Re Canati esiste esiste probabilmente per qualche ragione mistica perché se noi da Re Canati lanciamo un concorso nazionale e lo portiamo a Milano e invitiamo una giuria il più possibile composta da filosofi editori di giornali direttori personaggi di cultura senza come dire relazione e vincono due persone marchigiane beh allora vuol dire che qui come dire c'è un connotato a cui facevo riferimento prima ci sono dei luoghi che hanno una fortissima probabilmente valenza mistico e per chi ha credenze anche cosmica e quindi è tornato a Re Canati ecco questo è meraviglioso ma quanti saranno i premi due premi un ragazzo e una ragazza no 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 sono premi sono un ragazzo e una ragazza abbiamo scelto proprio l'equità non c'è secondo terzo ma i dieci verranno pubblicati sulla rivista poesia fondata e diretta da Nicola Crocetti che non dimentichiamo è una delle quattro riviste al mondo al mondo più autorevoli presenti in tutte le grandi accademie di letteratura mondiali e studiate da grandissimi poeti lo stesso comitato pensate lo stesso comitato d'onore di poesia è composto da molti Nobel e molti Nobel hanno attraversato anche la pubblicazione di poesia in 30 anni di attività e quindi dieci giovani avranno un'ulteriore opportunità cioè quello di essere visti da un pubblico competente e magari qualcuno di loro che mi ha già scritto una volta che ho comunicato a loro questo bellissimo premio mi ha già detto che vuole continuare a scrivere e questo è fondamentale se diventerò poeta diviene un incubatore di culture di saggezza e la missione è perfettamente riuscita quindi saranno pubblicati ecco sabato attenzione mi dimenticavo sabato mattina vi aspettiamo nella sala del consiglio comunale riaperta appunto come diceva il sindaco prima alle 11 verranno premiati i due autori e quindi la premiazione è aperta chiunque può partecipare e verranno lette anche le loro poesie sì benissimo andiamo avanti andiamo avanti non so se ci occupiamo ancora di queste celebrazioni leopardiane visto che abbiamo iniziato proprio con queste tre giornate e con l'inaugurazione del palazzo comunale riprendiamo con Francesco Fjordomo il sindaco allora Francesco non so se ti vuoi mettere qua va bene rimaniamo qua allora vediamo intanto se c'è qualcuno che vuole suggerirci qualche cosa o ha qualche curiosità da soddisfare lo può fare al classico numero ormai di Radio R che è lo 0717574429 vediamo tutto questo che state organizzando e che partirà appunto domani che avrà una durata di tre giorni lo avete fatto o con anche un certo sforzo fidanziario? beh diciamo quando si organizzano iniziative del genere è chiaro che dal punto di vista economico c'è un impegno che devo dire però si è mantenuto sui livelli degli ultimi anni abbiamo ridotto la parte spettacolare per esempio non abbiamo gli attori al Colle dell'Infinito e quindi siamo andati più alla sostanza delle iniziative e abbiamo voluto dare una caratterizzazione culturale maggiore poi chiaramente ci sarà anche la festa perché ricordiamo che sabato avremo in piazza il Gran Ballo dell'Ottocento avremo gli amici di Castelfidardo che riproporranno arte mestieri e vita dell'Ottocento poi abbiamo la prima serata di Lunaria con l'ospite internazionale domenica domenica sera un altro dei poeti diciamo sì era l'ospite giusto per chiudere le tre giornate leopardiane tra l'altro con un riscontro sui media eccezionali un articolo da Vostok a Recanati uscito qualche giorno fa avremo la stampa nazionale c'è un interesse molto forte su questo momento per i vari aspetti la riapertura del palazzo comunale sicuramente perché è legato al tema del terremoto la presenza di manifestare poesia quindi la nascita Recanati di un festival di poesia che nasce con grande umiltà con grande serenità ma anche con grande determinazione perché siamo convinti che nei prossimi anni questo festival se verrà fatto crescere anno dopo anno potrà diventare la nuova Mantova perché sicuramente abbiamo tutte le caratteristiche come ci ricordava Moreno Gentili poi abbiamo l'aspetto del cantautore internazionale che chiuderà le tre serate avremo la Rai Sky che ci ha seguito molto nelle ultime settimane arrivano i corrispondenti dei quotidiani nazionali il giornalista di Panorama quindi c'è un interesse che effettivamente negli anni scorsi non avevamo riscontrato quindi anche questa effervescenza questo incremento culturale viene apprezzato dai media quindi siamo sulla stessa linea degli anni scorsi poi anche attraverso l'Art Bonus il Comune di Recanati riesce ad intercettare anche finanziamenti privati e questo è un aspetto positivo perché quando arrivano finanziamenti per la riqualificazione dei beni storici architettonici ricordiamo il contributo per il restauro della Torre del Borgo o arrivano aiuti per manifestazioni culturali e per iniziative di carattere culturale anche questo è un segnale di attenzione importante non ha solo il valore economico pure significativo perché ci aiuta a chiudere i bilanci va bene vediamo se sapere se per noi o meno giardiamo pronto io volevo ringraziare il sindaco perché è rimasto poco di cariche ancora da sindaco ancora un annetto ecco però sta facendo il massimo come se fosse il primo anno si sta vanno da fare e quest'anno penso che ci sia riuscito adesso anche con questa manifestazione con tutte queste cose ancora di più degli altri anni penso che sia una cosa ottima beh io penso che grazie l'abbia fatto felice questo non so però penso che sia una bella cosa per i cananti perché comunque lo sta facendo conoscere un po' dappertutto penso un po' in grande e questo è bello benissimo grazie per tutto quello che ha fatto comunque buona giornata io la penso più che una domanda un ringraziamento però vale molto di più sorride anche Asterio quindi mi rende felice questo sorriso di Asterio Dubaldi io la penso così Asterio ho ricevuto un incarico la fiducia dei cittadini recanatesi e io devo lavorare al massimo delle mie forze insieme ai collaboratori fino all'ultimo giorno perché questo è il compito che ci è stato dato dalla cittadinanza e questo è l'impegno che ci siamo presi quindi nei prossimi mesi in questo ultimo anno di mandato abbiamo tanti altri obiettivi da realizzare adesso ne portiamo a casa uno importante stavo ragionando ieri sera che probabilmente la riapertura del palazzo comunale diventa simbolicamente una delle cose più importanti però se vado indietro con la mente penso alla riapertura della cattedrale il primo obiettivo quella era chiusa il problema del palazzo comunale è arrivato così all'improvviso tra capo e collo quindi è stato un aggravamento rispetto ad una programmazione che uno aveva in testa quindi non faccio una hit parade delle cose più importanti la cattedrale era chiusa l'abbiamo riaperta la chiesa di Sant'Anna era chiusa è stata riaperta il parco di Villa Colloredo era abbandonato a se stesso lo abbiamo riaperto il colle dell'infinito ha una nuova vitalità i giardini pubblici erano diventati quello che erano diventati e adesso possono essere fruiti in un'atmosfera in un ambiente diverso il restauro che stiamo completando a Palazzo Venieri ma anche le cose minori perché un sindaco poi lo raccontavo ieri a Moreno dicendo tu ti sorprenderai Moreno ma stiamo in macchina passando da un'emittente radiofonica ad una televisiva si parlava io ogni tanto rispondevo al telefono con l'auricolare e gli spiegavo che un sindaco comunque deve pensare in grande come diceva la signora ma deve fare bene le cose di ogni giorno quindi si deve occupare della cura del verde si deve occupare della putatura delle piante delle segnalazioni sulle buche quindi stiamo appaltando adesso ulteriori lavori per la sistemazione delle strade deve seguire il problema e le questioni relative alle scuole alle menze scolastiche alla derattizzazione perché spiegavo a Moreno come questo è il periodo della seconda fase della derattizzazione come quest'anno sia complicata perché questo alternarsi di pioggia e di caldo mette un po' in difficoltà sia per la cura del verde sia per la cura diciamo contro gli insetti molesti e le zanzare ecco io penso che sia questo il compito di un sindaco perché perché se la città funziona in un certo modo poi ci sono i problemi da risolvere ci sono le difficoltà ci sono gli errori che commettiamo però se tu vivi in una città che diventa più bella che diventa più accogliente una città sicura perché è un sistema di videosorveglianza allora sei disposto maggiormente a ragionare di altre cose sei disposto maggiormente ad andare a teatro ad andare in piazza e gli indicatori che abbiamo recanati da questo punto di vista sono importanti è il vero PIL il vero PIL di una città certo c'è quello che ci hanno in qualche modo imparato a leggere pur tra le mille contraddizioni matematiche dei contenuti del PIL che è l'indicatore economico certamente l'indicatore economico di questo territorio è discreto rispetto ad altri perché le nostre aziende hanno tenuto maggiormente rispetto ad altre zone del territorio però c'è il PIL di come si vive in una città e questo PIL ci può essere dato dall'aumento delle presenze alla biblioteca comunale e lì faremo la mediateca per l'autunno sarà pronta l'aumento del numero degli abbonati a teatro l'aumento del numero degli abbonati giovani a teatro l'aumento delle persone e dei ragazzi che partecipano alle attività della ludoteca e del centro di aggregazione giovanile l'aumento del numero di recanatesi che vanno all'interno dei musei e che partecipano alle iniziative riguardanti l'arte anche l'aumento del numero di persone che si iscrivono all'università di istruzione permanente cioè sono degli indicatori sociali dal mio punto di vista molto importanti allora non rompiamo l'incantissimo oggi perché no dai fammi la domanda cattiva chi vuole dai e no ma tanto ormai siamo prima del pranzo io magari le accumulerei tutte in un successivo quindi oggi facciamo la puntata dolce e poi ne facciamo un'altra tra un po' con l'amaro va bene no diceva si lamentava signora all'ascolto mi raccomando la prossima diretta lei deve essere all'ascolto perché mi deve dare una mano no no non è vero non ce n'ha bisogno non ce n'ha bisogno mi diceva in una recente intervista che ho fatto con Pier Santi che non compriamo libri e le marche i marchigiani anche i canadesi in realtà comprono sempre pochi libri o comunque non sembrano granché interessati all'acquisto dei libri quindi a tirare fuori i soldi poi magari vanno in biblioteca a leggere no però non spendono non investono in questa forma di cultura questo ci potrebbe dare una mano anche gentili a spiegare se è vero o non è vero questo fenomeno comunque tu dicevi però abbiamo dati che ci provengono dalla biblioteca comunale che invece ci dicono come c'è questo interesse sempre più crescente da parte di giovani e nonne nei confronti della cultura del sapere di conoscere e questo è un elemento positivo che dovrebbe indurre o far suggerire agli editori di magari pubblicare un po' più di libri di poesie anche se poi rimangono magari sugli scaffali delle librerie molti ma naturalmente è anche una scelta forse se si fa anche oltre che i poeti contemporanei vale la pena farli conoscere e voi ci provate in questa iniziativa di manifestare e poesia varrà la pena anche eventualmente rilanciare anche molti poeti classici che magari si leggono soltanto a scuola e poi magari se uno li riprende in mano tipo non so sembrerà strano ma anche l'Iliade di Omero io ho visto e ho constatato pochi mesi fa due ragazzi che le avevano in mano dico ma che dovete fare no no ci piaceva rileggere quello che abbiamo letto a scuola e vedere un po' che cosa che impressione esso ci fa e una lettura dice piacevolissima cosa che magari a scuola non avveniva questo vedere due ragazzi che avevano le liade in mano no soltanto per diletto e non per ragioni scolastiche ci sono due modi di leggere la poesia inevitabile una è quella dell'età giovane a scuola e quindi in un certo senso obbligati condizionati o portati anche in modo piacevole in molti casi perché insegnare come sappiamo è un'arte non è solo un mestiere e dopodiché l'età adulta l'età adulta consiglia sì la rilettura dei grandi classici perché perché si scoprono tutte quelle come quelle 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 trappole anche sentimentali quelle emozioni nascoste quella capacità di alcuni scrittori raffinati di rivelare anche segreti del vivere che poi devono corrispondere anche all'esperienza del vissuto reale altrimenti un ragazzo di 10 12 14 16 anni può non cogliere quindi è molto importante la rilettura dei grandi i classici vengono pubblicati dagli editori e non dimentichiamo che c'è una una buona diffusione dei classici però avete toccato una cosa molto importante il vero il vero segreto sono le biblioteche la biblioteca è il luogo di civiltà per eccellenza e ahimè e ahimè ad una certa età chiamiamola della ragione quindi dell'essere adulti dell'essere impegnati nel lavoro dell'essere presi da mille cose della vita quotidiana la biblioteca sfugge non viene più valutata e guardata con quella bella emozione di scoperta che la si guarda da studenti da giovani io ho vissuto tutta la mia adolescenza e giovinezza per esempio in una biblioteca a Como e quindi come dire sono e ancora adesso io vado a Como e quando torno a Como a fare delle passeggiate con i miei così io li porto a vedere la mia seggiola lì che guarda sull'angolo del vetro dove mi sedevo sempre e lì ricordo amici persone passate letture studi approfondimenti ore e ore e ore di pomeriggio a vivere in un ambiente che socialmente era bellissimo quindi la biblioteca deve tornare ad essere e lo dico anche perché c'è qui il vostro sindaco che è molto sensibile a queste tematiche così come lo erita Soccio che è l'assessore delle culture che è l'altro braccio del progetto manifestare poesia e comunque di queste iniziative la biblioteca dovrebbe tornare ad essere un luogo civico ma per tutti cioè proprio dove non ci deve essere soltanto come dire la pressione dei libri intorno ma proprio il messaggio la diffusione la qualità dei contatti i confronti e la biblioteca insomma che unisce poi il comune al al cittadino questo è fondamentale in biblioteca scopri dei libri che poi magari leggi vorresti avere a casa tua e vai a comprarli perché magari biblioteca non li puoi sottolineare mentre invece se li compri poi li sottolinei ci puoi fare quello che vuoi è vero posso aggiungere noi il progetto della mediateca ci siamo recati in alcune mediateche per verificare di persona quello che avviene la mediateca è una biblioteca dove c'è la parte multimediale e c'è la possibilità anche di intercettare i nuovi linguaggi c'è il cinema la musica e ne abbiamo viste diverse e ci ha convinti soprattutto il progetto di Fano che ci sembrava quello più rispondente anche alle caratteristiche e alle necessità di Re Canadi quindi investire nella biblioteca è significato andare oltre quindi raddoppiare gli spazi come faremo e avere queste nuove possibilità quindi il ragionamento tuo è assolutamente condivisibile così come ci sono altri progetti culturali importanti pensiamo al lavoro che verrà fatto con il FAI il Colle dell'Infinito che diventa un luogo del cuore non è soltanto per la città di Re Canadi un volano per lo sviluppo delle presenze turistiche perché chiaramente avere un partner come il FAI significa sprigionare nuove energie nei prossimi anni ma significa anche attività didattica perché stiamo valutando gli spazi e quindi i ragazzi che verranno qui nella nostra città ma non solo i ragazzi avranno delle opportunità di crescita culturale il lavoro che viene fatto da Sistema Museo con la nuova finanza di progetto per la gestione dell'accoglienza e degli spazi museali nel nostro museo oramai si svolgono attività didattiche con i bambini addirittura i bambini delle scuole materne vanno all'interno della struttura e riconoscono l'annunciazione di Lorenzo Lotto piuttosto che Mirò è stata la mostra dell'anno scorso le mostre che ci saranno nei prossimi mesi il rapporto con le università l'università di Macerata sempre più attenta e sempre più sensibile con il rettore insieme all'assessore Soccio stiamo ragionando della possibilità di portare gli studenti a Recanati per dei corsi formativi relativi alla figura di Giacomo Leopardi facendo queste cose in maniera nuova dinamica non più come si faceva un tempo con le sedi distaccate che poi hanno dissanguato le università e gli enti locali quindi da questo punto di vista ecco alzare sempre di più l'asticella poi senza distrarci dalla quotidianità quindi stiamo lavorando a stereo per proseguire l'intervento sul Colle dell'Infinito è in appalto la fase del progetto che riguarda la riqualificazione dell'area dell'ex Grottino abbiamo presentato qualche giorno fa in regione il progetto del dissesto idrogeologico quindi tutto quello che riguarderà la zona della passeggiata leopardiana dal Grottino fino a sotto l'ospedale è partito il cantiere per la nuova struttura del calcio a 5 quindi della palestra che sarà a servizio anche del liceo scientifico abbiamo concluso la prima parte dell'intervento a Fonti San Lorenzo ti do anche una notizia in anteprima il 15 luglio abbiamo la consegna dell'intervento alla tomba di Beniamino Gigli quindi intervento è completato e da fine luglio troveremo anche un momento ci sarà la possibilità di rientrare nella tomba dell'altro grande figlio della città di Recanati Beniamino Gigli che finalmente dopo un'attesa un'attesa stereo trentennale forse 40 siamo arrivati torna al suo antico splendore con un intervento molto complesso anche dal punto di vista statico strutturale e artistico poi avremo Leonucci per festeggiare questo evento nel mese di ottobre perché quest'estate è in tournée in giro per il mondo quindi siamo concentrati e poi abbiamo i 200 anni dell'infinito tu prima parlavi di risorse noi le risorse siamo stati così non dico bravi perché dopo si commenta fa il pavone abbiamo trovato risorse non recanatesi sia per gli interventi strutturali ma anche per le attività ad esempio tutta la programmazione delle mostre per i 200 anni dell'infinito e delle attività sono finanziate dalla regione Marche noi avevamo un contributo di 350 mila euro che la regione Marche ci aveva dato per il progetto della Capitale della Cultura Italiana 2018 che ci è stato confermato per le attività che si svolgeranno nel 2019 quindi il sindaco sta mettendo fieni in cascina anche per chi arriverà nel maggio-giugno del 2019 perché lasceremo una eredità economica importante soldi veri da poter spendere c'è il dialogo con il Ministero della Cultura domani avremo la dirigente qui con noi e sarà presente alle celebrazioni e lì abbiamo presentato con il Comitato Nazionale il progetto che può attingere anche ad ulteriori finanziamenti Recanati e Giacomo Leopardi sono insieme agli altri grandi della letteratura dei quali ricorrono gli anniversari quindi abbiamo anche le risorse da parte della regione da parte dello Stato per poter mettere in piedi delle iniziative che non devono essere mai iniziative effimere ma devono essere iniziative che lasciano un segno educativo e lasciano un segno culturale se noi avessimo fatto manifestare poesia con un candidato premio Nobel con il poeta tedesco con il poeta greco con gli altri grandi poeti contemporanei e con Gabriele Lavia che recita a memoria mi dicono Giacomo Leopardi in piazza se avessimo fatto questo ma non ci fosse stato il concorso letterario per i ragazzi avremmo fatto un qualcosa forse di bello ed entusiasmante ma un mordi e fuggi la bellezza e l'entusiasmo di una serata invece qui ci sono progetti che si accompagnano che hanno un valore educativo straordinario ed hanno anche e un sindaco deve valutare questo aspetto un valore economico mi ha fatto piacere prima sentire Moreno Gentili che lavora anche con il mondo imprenditoriale quello creativo quello innovativo quello coraggioso parlare di cultura come fattore di sviluppo economico come di nuove professioni come di guadagno ma questo discorso Moreno qui da noi farlo qualche anno fa potevi essere messo all'indice nel libro nero perché perché c'era una concezione statica per carità degnissima però che non aveva quella energia per diventare un qualcosa di diverso ci siamo incamminati bene su questa strada senza abbassare il registro della qualità perché poi si può fare un nazional popolare di quello diciamo da battaglia ma abbiamo tenuto alto il registro poi è giusto che durante le feste leopartiane Monte Morello si organizzi con la tavolata lungo le strade per condividere anche il momento della scena e ringraziamo Monte Morello e i frati Cappuccini e diciamo che venerdì sabato e domenica si mangia tra l'altro benissimo a stereo lo possiamo consigliare a Moreno la cucina dei frati è proprio come quella di una volta al top giusto a stereo i frati hanno sempre cucinato bene i frati e i nostri Cappuccini sono sempre buoni conoscitori sono meravigliosi poi avremo anche tipicità all'esperienza che ci sarà sabato pomeriggio all'alloggiato del palazzo comunale è un'esperienza di altissimo livello perché il Grand Tour delle Marche arriva qua arrivano gli chef stellati che ci ripropongono i piatti della tradizione che ci propongono quello che Giacomo Leopardi pensava di cucina perché era un grande intenditore anche questa è un'operazione culturale perché poi abbiamo visto che i nostri ristoratori possono proporre i piatti e abbiamo visto che il turista che arriva se trova anche l'elemento dell'enogastronomia sappiamo che oggi è un elemento decisivo nella scelta di un luogo piuttosto che di un altro benissimo noi siamo giunti al termine io vorrei semplicemente così fare una domanda a Gentili proprio per terminare perché me l'ha suggerita in definitiva all'intervento cioè il sindaco indirettamente visto che ci sono tutti questi poeti contemporanei che vengono alle grandi che sono poi anche i più grandi poeti contemporanei tra i più grandi e in più abbiamo anche questo poeta tedesco visto che c'è questa necessità anche di lasciare un segno come diceva il sindaco di questo iniziativo non effimero ma consistente culturalmente valido lasciare la possibilità a questi poeti di poter magari scrivere di questa esperienza reganandese del legame della loro poesia eventuale con la poesia leopardiana e farci un libro abbiamo già pensato di raccogliere queste testimonianze non solo ma riprenderemo anche alcuni tra gli spettacoli e poi li distribuiremo sui canali nazionali non dimentichiamo che questo festival ha l'attenzione di Sky di Rai nazionale di molti di molti media per cui abbiamo anche come dire costruito perché il progetto sia un'eredità anche per i recanatesi e non solo come giustamente diceva Francesco un progetto mordi e fuggi questo è fondamentale quindi nei filmati che ricaveremo e nel libro di testimonianze che raccoglieremo ci sarà sicuramente questo segno e magari lo presenteremo che ne so magari tra qualche mese qui ancora e ne parleremo e leggeremo di quello che è insieme magari insieme alle composizioni di quei due ragazzi che hanno vinto il premio diventerò poeta benissimo io vi ringrazio entrambi al sindaco promettiamo che a lui daremo soddisfazione ai nostri lettori che erano pronti a formulare delle domande su questioni non tanto inerenti al giugno mirobardiani quanto i loro quartieri come capita spesso benissimo grazie a tutti buona giornata grazie